Stasera raccontiamo il libro, il libro Il sesso è quasi tutto, che è appunto edito da Feltrinelli e che ho scritto per raccontare quanto sia importante la visione di genere nella scienza, partendo naturalmente dalla medicina di genere, la medicina di genere che è ancora poco conosciuta, poco applicata e che però è fondamentale per portare la giusta cura a tutte le persone e per andare verso quella medicina personalizzata di cui tutti quanti noi parliamo.